...sportive isolane e dei club, dei tifosi delle maggiori squadre di Serie A ne sono la testimonianza. ...e di volontariato che ringrazio... ...sportivi, tra cui diversamente giovani, chiamiamoli così, e giovani. ...tantissimi, ma davvero tantissimi, bambini a delle panchine, grazie. ...a seguire... ...benvenuti, è un'emozione, ve lo confesso, è un'emozione venerente e siamo contenti perché... ... ... ... Grazie a tutti